Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Marco. L'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sa scritto nel profeta Isaia, ecco dinanzi a te io manto il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi santeli. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo Inizio del Vangelo di Gesù il Cristo, il Figlio di Dio San Marco così inizia il suo Vangelo per ricordarci che la buona notizia è Cristo Lui che deve essere è Lui che deve essere al centro di tutto perché Lui solo è il motivo di essere cristiani Queste parole dell'Evangelista Marco all'inizio dell'Avvento ci stimolano a una verifica dei motivi del nostro essere cristiani Non il bel canto o la bella predica, non i sacerdoti o la gente simpatica possono essere motivi per credere Motivo della fede è Cristo con la sua vita e il suo messaggio di amore per noi È per Lui, è solo per Lui che si può sacrificare tutto perché solo Cristo può dar senso alla vita e alla morte Ma come dobbiamo accostarci a Cristo? La risposta ci viene dal Vangelo del giorno Tra i grandi personaggi dell'Antico Testamento la Chiesa ci presenta in questo periodo di avvento La figura austera di Giovanni, precursore del Messia Il Battista fu inviato da Dio con lo Spirito e la forza di Elia per preparare al Signore il popolo attraverso la conversione dei cuori Da duemila anni la voce possente del precursore continua a invitare gli uomini alla conversione Oggi San Giovanni Battista si rivolge particolarmente a noi Vuole risvegliare le nostre coscienze dal torpore spirituale Ecco il suo messaggio Voce di uno che grida nel deserto Preparate la via del Signore In questo cammino verso il Natale Giovanni Battista ci invita a preparare una via che permetta a Gesù di arrivare fino al nostro cuore Che cosa possiamo fare? Consegniamo a Lui tutte le macerie e le rovine che ostruiscono il cammino Sono i macigni del male di cui ci siamo caricati e che ci opprimono Sono le impurità, le cattiverie, gli inganni, le ruberie, le maldicenze e tutte quelle profanazioni del male che ci incatenano Il Battista ci è solta ad abbandonare le vie del peccato e dell'inquietitudine, della perdizione e anche della disperazione Nel pentimento decidiamo di aprire il cuore e di preparare la via al Creatore Che viene a trovare la sua creatura infinitamente amata San Giovanni Battista ci insegna che per incontrare Dio è necessario raddrizzare i sentieri Vi è capitato mai di raddrizzare un sentiero? È un lavoro non facile La terra, i sassi da spostare sono così tanti da far tendennare anche i più volenterosi Bisogna perciò rimboccarsi le maniche, prendere pala e piccone e lavorare sodo Costerà fatica? Sì, molta È difficile? Sì, ma non è impossibile Che cosa significa raddrizzare il sentiero nel senso spirituale? Significa raddrizzare le strutture del cuore Liberandolo da tutti gli attaccamenti e affetti disordinati Significa impegnarsi a purificare la mente dai giudizi affrettati e da ogni pensiero peccaminoso Significa inoltre riempire i vuoti causati dalla pigrizia, dall'indolenza spirituale, dai cedimenti della fede Significa infine abbassare le montagne dell'orgoglio e dell'egoismo Questo programma di cambiamento radicale di vita, valido per ogni cristiano e non solo per il periodo dell'Avvento È la strada dritta di cui parla il Battista, che porta a Dio senza ambiguità e senza compromessi La conversione del cuore non è un'opera esterna Bensì un lavoro profondo da compiere ogni giorno, anzitutto all'interno di noi stessi È un lavoro che richiede una lotta costante al peccato in tutte le sue molteplici manifestazioni Egoismo, superbia, lussuria, menzogna, odio, violenza, pigrizia, eccetera E richiede soprattutto un cambiamento radicale di mentalità, di sentimenti, di condotta di vita Secondo gli insegnamenti del Vangelo Un'ultima riflessione Leggiamo nel Vangelo di oggi che Giovanni era vestito di peli di cammello Con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavalletti e miele selvatico Giovanni Battista è nella condizione ideale per incontrare il Signore Ha dato un taglio a vanità, ospelli e illusioni Giovanni è un uomo libero, per questo gli può predicare, può rimproverare E la gente, nota l'Evangelista Marco Arriva da Gerusalemme e va verso il deserto per ascoltarlo Perché insegna la verità La storia dell'umanità è un'interminabile fiera delle vanità Che cosa fa la maggior parte degli uomini nel tempo della loro vita? Si agita per il cibo, il denaro, il potere, il piacere, l'onore e la vanità Tanti pur avendo già un piede nella tomba Tengono ben stretto quel pezzettino di mondo che sono riusciti a procurarsi Forse anche noi non siamo molto diversi Ricordiamoci che la vita passa e che lasceremo tutto e tutti per sempre Approfittiamo allora finché dura il tempo della nostra vita Per raddrizzare i sentieri del nostro cuore Niente più attuale della conversione A un passo dal Natale il compito più urgente anche per noi è la conversione Abbiamo bisogno di cambiare la condotta della nostra vita L'Immacolata, la Vergine dell'Avvento, ci aiuti a purificare i nostri cuori Per essere pronti ad accogliere Gesù il Salvatore che viene a salvarci Sia lodato Gesù Cristo 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 Sia lodato Gesù Cristo